A Teramo inizia l'era di Giorgio Repetto, ormai manca solamente l'annuncio ufficiale, ma non ce ne sarà bisogno, visto che il nuovo direttore sportivo Biancorosso sarà presentato quasi certamente alla stampa sabato mattina dal presidente Luciano Campitelli, che dunque romperà il lungo silenzio che l'ha accompagnato nella parte finale di questa stagione. D'altronde, l'ansia legata ai destini play-out della sua squadra lo avevano convinto a non esporsi per non prestare il fianco, ulteriori polemiche in un momento delicatissimo della stagione. Ma sotto traccia, specie a salvezza acquisita, la dirigenza del diavolo ha iniziato a pianificare quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo due annate decisamente in chiaroscuro. E allora sarà proprio Repetto a scegliere a chi affidare il nuovo progetto tecnico. I nomi sono quelli usciti nelle ultime ore con Asta e Palladini, il primo però sembra avere un piccolissimo vantaggio, a contendersi la panchina del Teramo. Ma attenzione, perché potrebbe spuntare fuori, come accade spesso, un nome a sorpresa, attraverso proprio la fitta rete di conoscenze e collaboratori che la N.O.D.S. ha sviluppato negli anni. Un'eventualità in grado di sparigliare le carte. Anche se l'ex allenatore di Lecce, Feral Pisalò, è da tempo sul tacuino del diavolo, e complice anche il carattere di allenatore e giocatore, sarebbe l'identikit ideale per la formazione bianco-rossa. Non è escluso che questo weekend, come accaduto per la scelta di Repetto, possa portare clamorose novità anche per la panchina, nell'attesa di iniziare la politica di abbassamento del numero dei contratti. Una medicina doverosa per la società bianco-rossa si vorrà ripartire con uno slancio differente in una stagione, quella che parte a luglio, nella quale sarà obbligatorio non sbagliare nulla, o quasi.